Non è uno smartphone, è un nabbo questo Perché nel... Ma spara al muro! Ma perché? Che c***o di me ti ho trovato? Cosa? Sta a Diamond questo! Sta a Diamond! Sta a c***o di Diamond, ha il secondo rank più alto sta Ha comprato l'account L'ha comprato L'ha comprato Non c'è... Allora, non c'è via che questa persona abbia fatto da Platino a Diamond da solo O l'ha comprato o è stato boostato Non c'è via che uno simile sia arrivato a Diamond E ovviamente ce lo becchiamo noi come random, Cristo Ragazzi, commentate il video facendomi sapere secondo voi quanto ha pagato l'account a Diamond questo signorino Perché, boh, questo è stato più o meno un riassunto della serata di ieri, veramente Abbiamo giocato le ranked in duo con il terzo random E più o meno, non dico che siano andate tutte così perché adesso vedrete una partita un pelo più carina Però più o meno Lasciate un bel mi piace e godetevi questa partita in rank Diamond Partita che ci ha portato dal D3 al D2, stiamo continuando la scalata su Twitch Link in descrizione ogni sera, questa sera dalle 21 Quanti punti ti mancano? Eh, 150 141 Great! Oh sì Non farà un c***o manco questo, ma garantito È tutto qua da soli? Allora lootiamo, fammo il flat in caso e andiamo a Elisio Sono indietro, il teammate è morto, siamo i 2v3 Mi son rotto il c***o, mi son rotto A parte che io non colpisco, zio Khan È un team solo, stavano confermando a lui così tanto No, due team vero Crackato il caustic di nuovo Là davanti Ok Pushiamo, era crack la Valk? Sì 50 flash Ah vabbè, ti sei preso gli altri due, no? Eh, grazie teammate per il fantastico aiuto durante il fight Che c***o dire Potremmo invitare qualcuno a Milano però Se tu hai detto forse, ci siamo garantiti solo io e Stekic Mandate candidatura in privato a Stekic Con foto e con scritti i vostri talenti A terra 1 Crackato Pov, sei un octane con le 20 bombe E cerchi di fare third party al team che respawna Ribo 5 punti io, tu quanti? 3 Buono, c***o Buono, buono, sì, sì Sto Battle Royale 2 YouTube c'ha ancora zero danni in tutto questo Ti giuro Tu te lo sei preso full il tuo? Sì, l'avrete, sì Ok, gli altri due li abbiamo presi full perché io ho fatto 120 al primo che pure tu hai colpito Il terzo me lo so fatto full io Il fight prima, lui non ha sparato, sta a zero danni Questa deve essere la partita del D2, non mi frega anche Crackato il Seer, tanto Uno push, arrivo, arrivo il Crypto Buono, arrivo Buono, arrivo Ma siamo sicuri che il Crypto sia con loro? Mi fa strano, eh No, infatti il Crypto non è con loro, il Crypto non è con questo team qua Crackatissimo 60, eh, crackatissimo 60 al volo, gli ho fatto, non è morto Il fight gli ho fatto 60 al volo, fosse morto, kill, boh, più bella della storia Crackato un altro blu 83 flash Che sfigo Ma zio kaa, litte da 60 l'ho crackato Poi 83 flash non è morto Quello là c'ha meno di 17 HP, ma probabilmente 2 Quascioti il Seer Preso il Seer Vado sul tetto io Eh, ci siamo capiti quale tetto Ok, manca la Brit ha fatto il tipi davanti 60 viola la Brit Davanti 60 viola È l'ultima Guarda, sincero lo lascerei anche scappare, non mi frega molto Ma lo zai un oro? Ma lui già ce l'ha Ah, perché ha capito l'andazzo della partita, lo lascia a me Va bene Eh no, perché infatti non mi sembrava ce l'avesse lui per quello Io sono andato indietro Crackato uno Crackatissimo A terra Ah, ma era lo stesso di prima, comunque l'hai risponato Steggec, quando vuoi un tutorial con l'arco mi raccomando Sempre disponibile io Ma per assurdo, vedi, c'è I random non serve che facciano cose assurde per essere buoni Cioè questo ha zero danni sicuro O al massimo ne ha un centinaio Però non si sta comportando male Cioè ci segue, nei fight è presente Pure se non spara È presente, figa Cioè almeno fa da bersaglio mobile Ma guarda che quasi quasi noi abbiamo questa casa No, non è, non c'è nemico Io holderei con la casa Stiamo chill, siamo chill Cioè i punti siamo pieni Non ci serve andare ora Allora, top 6-14 Dici, ci stanno due ratti Un team mi pare sia qua dietro Cioè non voglio andare Aspetta che No, 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 no Oh Madonna è vero che stiamo corrando Ma non posso fare ping mentre parlo Quello che parte Per quale motivo andare là No Però vedi Almeno ascoltami Che è andato corso subito Appena ho messo il ping Vabbè A quanto starà la sua armor? Perché io gli potrei farmare la rossa volendo Però ho paura che ce l'abbia tipo 700 danni dalla rossa Perché non ha mai fightato Quindi eviterò Facciamogli vedere chi comanda con l'arco, zio Kang Questo qua è un ratto al 100% Cioè Si potrebbe anche azzardare di perdere l'high ground a mezzo secondo Per prendere sta positioning e la kill Cioè la kill non frega nulla, ce l'abbiamo Però una posizione in più Restiamo sopra, eh? Non mi frega nulla della ulti Gliela holdo L'ultiamo la ulti tutta la vita Ma no Cazzo la battery sì Potevo farmela Che non mi aveva mai colpito Quelli che avevano rotto lì Quelli là Eh ci stanno Quelli con radius là Sì che hanno rotto i coglioni Non ho pick Cioè voglio piccare quelli davanti Non posso Chi è con radius? Il gibbo era? Sì sì Secondo me il tp è troppo presto Per andare là Cioè Era one shot uno Il fuse era Tanto one Quel team l'ha rotto Più che altro quelli Devono andare safe No ci stanno già Senti Gli piglio il tp No è rischioso Dove l'ha fatto Ma che tp è? Ma Ci mettiamo sotto? È molto rischi No Sicuro? Eh lo nocco questo? Ah Bella Quanta vita ho? Eh però Sta il full team Sta il full team Di gibbo Hai questo loot full Ribbo No Se fa la ulti per pusharmi No 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 Non osare Ma perché pushate? Perché vi trollate la partita così? Perché vi trollate la partita così? Siete stupidi siete? Perché dovete Perché dovete voler fare il secondo posto Così tanto? Perché? Non ha senso ragazzi Cioè Bravi ragazzi Bravi Bravi Complimenti C'hanno il quoziente intellettivo Di un verme Figa L'altro team Non l'ultimo A random Ma perché? Ma stanno scherzando Cioè il team che è arrivato terzo E godo che sia arrivato terzo E godo che sia arrivato terzo Quel team l'avrà detto Vabbè pushiamo a cazzo Ci pigliamo il secondo posto Non si sono presi manco il secondo posto Io Sbovo Oh random non si è comportato male Hanno fatto un Un push senza senso Cioè pushano a noi Che stiamo sotto Lo sai che poi ti becchi il third party Da quelli sopra Cioè quelli l'hanno fatto Penso l'unica cosa Con cui avrebbero perso la partita Al cento per cento Cioè questi qua Si sono trollati la partita Per fare il push su di me Ma sarebbero arrivati prima Al cento per cento Infatti Vabbè Vabbè Ci sta Vabbè 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 Vabbè